Ciao, benvenuto a te da Costanza e da Giulia Oggi abbiamo una puntata speciale di C'era una volta Beh, costruiremo una storia ma un po' particolare perché ci ispireremo solamente con un pennarello tra le mani con un foglio bianco e con tanta fantasia Non sappiamo ancora che disegno uscirà mai dalle nostre mani? Veramente non lo sappiamo Io inizierò con fare un... Scarabocchio? No Un inizio di disegno sul mio foglio Ispirerò così Giulia e vedremo cosa succederà Lei ispirerà a me con i suoi disegni e costruiremo qualcosa che all'inizio non esiste ancora Proviamo? Inventiamo la nostra storia? Bene Giulia, sei pronta? Sì Ok, io comincio col fare una semplice forma semplice, semplice, semplice Giulia, se io faccio così tu come continueresti? Ah, bene Giulia ha disegnato una stella dunque possiamo raccontare la storia della stellina che non voleva mai rimanere da sola nel cielo e quindi iniziò a chiamare tutte le sue amiche stelle e chiedere loro di non rimanere da sola perché lei da sola non voleva starci Anche perché nel cielo c'erano delle nuvole che volevano portare sempre la stella lontano dalle sue amiche Queste nuvolette di spettosette pensavano che la stella si sarebbe divertita di più stando da sola ma non era così perché la stella voleva stare con le sue amiche per fare cosa? Per andare di notte a mangiare cosa potrebbero mangiare queste stelline di notte tutte insieme? Bene, allora Giulia vuoi dirmi cosa hai disegnato? Un leccalecca all'anguria Ah, quindi le nostre amiche stelle in realtà non volevano rimanere da sole perché volevano andare a mangiare leccalecca alle anguria Ma adesso però dobbiamo capire dove andavano le stelle a mangiare il loro leccalecca? Andavano dove? Andavano? Dimmi cosa hai disegnato? In una casa nel loro posticino segreto Bene, dunque le stelline di notte volevano rimanere insieme per andare a mangiare i loro leccalecca all'anguria in una casa nel loro posticino segreto In questa casa, in un posticino segreto loro avevano a disposizione che cosa? Un tavolo Avevano a disposizione un tavolo dove distribuivano i loro leccalecca e tutte felici e divertenti si potevano mangiare i loro leccalecca Bene, siamo partiti da un mezzo triangolo appena accennato da cui io avrei disegnato un'altra cosa invece Giulia ha pensato di fare una stella ed è stato bellissimo perché da questa stella è nata la storiella delle amiche stelline che andavano in un posto segreto a mangiare leccalecca all'anguria scappando dalle nuvole che volevano tenerle separate e in questa casa segreta c'era un tavolino su cui erano distribuite tanti leccalecca all'anguria Bene, questo giochino vuoi farlo tranquillamente anche tu a casa è molto divertente, è molto stimolante e ci siamo divertite tanto io e Giulia Ciao, alla prossima puntata di C'era una volta mi raccomando, inventa tante storie che fa bene Ciao!